Sono qua con i soci fondatori di più di un sogno che è la nostra associazione benefica di cui stiamo pubblicizzando questo evento di oggi pomeriggio. Intanto grazie agli organizzatori, grazie agli sponsor. È una splendida giornata anche se il tempo purtroppo non è fortunato per noi. Comunque noi come fondazione siamo contenti di avere questa partecipazione di squadre e di personalità importanti per Verona. Noi abbiamo bisogno anche dell'apporto di tutti e quindi avere vicino il sindaco, avere vicino i giocatori del Verona e anche gli artisti è una grandissima cosa. Cosa vorrete dire al pubblico che ci può guardare da casa per incentivarli a dare un pochettino alla loro offerta? Noi pensiamo di svolgere un grosso servizio nei confronti di tutto l'ambito a cui ci rivolgiamo che sono le persone con disabilità intellettiva e a cui possiamo dare un grosso contributo sia dal punto di vista sanitario e sia dal punto di vista sociale, sia come supporto sanitario di primo inserimento, sia come supporto per l'altra scuola, per il mondo del lavoro successivamente. Comunque ci occupiamo dalla nascita all'età adulta. fin dall'inserimento nel mondo del lavoro. Allora io vi direi a voi di essere generosi, diamo una mano veramente alle persone che hanno bisogno, che noi siamo molto fortunati, io me lo ripeto tutti i giorni di essere molto fortunati, cerchiamo di aiutare le persone che sono un po' meno fortunate di noi. Grazie mille. Grazie a voi e abbiamo fortuna a tutti se abbiamo tante persone vicino, quindi anche i nostri ragazzi. Grazie a voi, grazie. Arrivederci.